Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Quando rallenti vedi il mondo di Heming Sunim. Sunim è un monaco buddista nato in Corea, il quale si è trasferito negli Stati Uniti per studiare cinema, ma una volta lì ha riscoperto le proprie radici buddiste e ha preferito dedicarsi ad una vita spirituale. Ha studiato a Berkeley, Harvard, Princeton ed è il primo monaco coreano ad insegnare religione in un'università degli Stati Uniti. Il mondo si muove velocemente, ma ciò non significa che dobbiamo farlo anche noi. In questo suo best-seller, Sunim, ci accompagna attraverso un percorso per raggiungere la pace e l'equilibrio interiore tra le stringenti esigenze della vita quotidiana. Le parole di Sunim sono profonde ma familiari, semplici ma sofisticate, e ogni capitolo sembra essere più una conversazione con un amico affettuoso e sincero che non un altro libro sulla consapevolezza. Riposo Sunim comincia dicendo Perché sono così occupato? Quando tutto intorno a me si muove così velocemente, mi fermo e chiedo È il mondo che è occupato o è la mia mente? Per essere onesti, a volte mi chiedo se un monaco zen debba mantenere un'agenda così piena, ma poi mi rendo conto che non è il mondo esterno ad essere un turbine, è solo la mia mente. Il mondo non si è mai lamentato di quanto sia impegnato. C'è un famoso detto buddista che dice che tutti appaiono come Buddha agli occhi del Buddha e tutti appaiono come maiali agli occhi di un maiale. Il mondo è sperimentato secondo lo stato della propria mente. Quando la vostra mente è gioiosa e compassionevole, anche il mondo lo è. Quando la vostra mente è piena di pensieri negativi, anche il mondo appare negativo. Quando ti senti sopraffatto e occupato, ricorda che non sei impotente. Quando la vostra mente si riposa, anche il mondo si riposa. Conosciamo il mondo solo attraverso la finestra della nostra mente. Quando la nostra mente è rumorosa, lo è anche il mondo. E quando la nostra mente è tranquilla, lo è anche il mondo. Conoscere la nostra mente è tanto importante quanto cercare di cambiare il mondo. La consapevolezza è intrinsecamente pura come il cielo aperto. Lo stress, l'irritazione e la rabbia possono temporaneamente offuscare il cielo, ma non possono mai inquinarlo. Le emozioni negative vanno e vengono come le nuvole, ma il cielo aperto rimane. I saggi non combattono il mondo. Nel mondo più rilassato e giocoso, loro incarnano semplicemente la verità, in base alla quale loro sono uno con esso. Ciò che rende bella la musica è la distanza tra una nota e l'altra. Ciò che rende il discorso eloquente è la pausa appropriata tra le parole. Di tanto in tanto dovremmo prendere un respiro e notare il silenzio tra i suoni. Cosa regolezza? Come disse il maestro spirituale Krishnamurti, La pura attenzione senza giudizio non è solo la più alta forma di intelligenza umana, ma anche l'espressione dell'amore. Sunim aggiunge, se dovessi riassumere la totalità della vita della maggior parte delle persone in poche parole, sarebbe una resistenza senza fine a ciò che è. Mentre resistiamo, siamo in costante movimento cercando di essere giusti, eppure rimaniamo ancora infelici per ciò che siamo. Se dovessi riassumere la totalità della vita di un illuminato in poche parole, sarebbe la completa accettazione di ciò che è. Quando accettiamo ciò che è, la nostra mente è rilassata e chiara, mentre il mondo cambia rapidamente intorno a noi. Il monaco più venerato degli altri monaci non è quello che appare più santo, predica meglio, gestisce il tempo meglio, predice più accuratamente il futuro, ha la capacità di curare le malattie. No, è colui che insegna attraverso le proprie azioni. La spiritualità deve essere praticata non solo in solitudine, ma anche tra la gente. Apriti alle persone intorno a te e sentiti connesso. Questa è la vera sfida della pratica spirituale. Se sei sincero nel raggiungere l'illuminazione, puoi imparare anche da un bambino o dalla persona che ti insulta per strada. Il mondo intero diventa il tuo insegnante. Anche quando siamo svegli, non siamo diversi da un sonnambulo. Facciamo cose senza la consapevolezza di farle. Solo perché i nostri occhi sono aperti non significa che siamo svegli. Avere consapevolezza della tua presenza, della tua esistenza, è un fattore essenziale per vivere la vita pienamente e percepire ogni evento nel modo opportuno. La vita è come il teatro. Ti viene assegnato un ruolo. Se il ruolo non ti piace, tieni presente che hai il potere di ricreare il ruolo che vuoi. Abbiamo parlato spesso di questo aspetto analizzando i libri di Neville Goddard. Non dobbiamo per forza credere che la realtà che vediamo sia qualcosa di definitivo. Noi abbiamo il potere di cambiarla internamente, decidendo di credere ad altro, di visualizzare e di immaginare internamente la realtà che vorremmo vedere, credere ciecamente in quella visione e andare là fuori ad agire per rendere la realtà. Secondo il saggio studioso confuciano Yak Yong, il modo migliore per nascondere la propria ricchezza è quello di darla via. Se sei generoso con la tua ricchezza, il denaro che prima o poi sarebbe scomparso diventa un gioiello eterno, profondamente inciso nel cuore di chi lo riceve. Secondo alcuni psicologi, la felicità può essere valutata con due semplici domande. Perché la prima sarebbe trovi un significato nel tuo lavoro, quindi ha senso quello che fai per te e hai buone relazioni con chi ti circonda. Per i praticanti spirituali le relazioni sono la prova finale. Anche se ti sei risvegliato alla tua natura illuminata, c'è ancora molta strada da fare nel tuo viaggio spirituale se non vivi armoniosamente con gli altri. Amore e vita. La verità è che siamo tutti ordinari. Non importa quanto uno sia famoso o bello, non importa quanti soldi o potere abbia, non importa quanti meravigliosi successi abbia avuto, abbiamo tutti la nostra parte di battute d'arresto e fallimenti. Dobbiamo affrontare sfide sulle quali non abbiamo alcun controllo. La solitudine e la paura della morte ci accompagneranno fino ai nostri ultimi giorni. Ci sono molte più ore ordinarie nella vita che straordinarie. Aspettiamo in fila il supermercato, passiamo ore a fare i pendolari al lavoro, innaffiamo le nostre piante e diamo da mangiare ai nostri animali domestici. Felicità significa trovare un momento di gioia in quelle ore ordinarie. Quando ci si concentra, anche un elenco telefonico può essere interessante. Se ti annoi, forse non ti stai concentrando. Il luogo in cui vivi ti modella. Vivi in un luogo che favorisce il perseguimento dei tuoi sogni? Quando ci aggrappiamo troppo fermamente alle nostre convinzioni, rischiamo di essere ciechi alla realtà e di vedere solo ciò che è conforme alle nostre convinzioni. Sunim aggiunge La vita è come il jazz, molto improvvisato, non possiamo controllare tutte le variabili, dobbiamo andare avanti con entusiasmo e destro, a prescindere da ciò che ci getta addosso. Mantenete i vostri pensieri positivi perché i vostri pensieri diventano le vostre parole. Mantieni le tue parole positive perché le tue parole diventano il tuo comportamento. Mantieni il tuo comportamento positivo perché il tuo comportamento diventa le tue abitudini. Mantieni le tue abitudini positive perché le tue abitudini diventano i tuoi valori. E mantieni i tuoi valori positivi perché i tuoi valori diventano il tuo destino. Futuro e spiritualità Sunim aggiunge Mio caro giovane amico, non scoraggiarti solo perché sei leggermente indietro. La vita non è una corsa di 100 metri con i tuoi amici, ma una maratona di tutta la vita contro te stesso. Piuttosto che concentrarti sull'andare più avanti rispetto ai tuoi amici, cerca prima di tutto di scoprire il tuo colore unico. Non esiste una cosa come essere completamente preparati. La vita è un'avventura attraverso la quale impariamo e maturiamo. Naturalmente dobbiamo considerare attentamente tutte le nostre opzioni, ma se aspettiamo il 100% di certezza, spesso è troppo tardi. Quando si sta per prendere una decisione importante, c'è sempre un momento di esitazione, proprio prima di firmare sulla linea tratteggiata. Non tiratevi indietro, avete fatto tutta questa strada dopo averci pensato seriamente. Non guardate indietro, continuate il vostro cammino con coraggio. Prova queste due cose allo stesso tempo. Fai finta di essere già un campione e lavora diligentemente per diventarlo. Il divario tra la convinzione e la realtà si chiuderà presto. Lo abbiamo visto prima nella frase di Gandhi. Quello che pensate diventa parole e le parole diventano comportamenti, i quali diventano abitudini, valori ed infine destino. Se credete di essere già quello che vorreste diventare e lavorate per diventarlo, ci riuscirete. La vostra libertà è più importante del denaro. È meglio vivere il tipo di vita che volete piuttosto che guadagnare di più ed essere limitati. Non vendete mai la vostra libertà, aggiunge Sunil. Il senso del volersi arricchire sta proprio in questo. Essere liberi di fare quello che volete con quel denaro. Non credere mai il potere, non cedere mai il potere di prendere decisioni sulla tua vita. Il Buddha e Gesù esistono perché tu esisti, tu sei il proprietario della tua vita, dai valore a te stesso prima di tutto. Ho capito che la verità non è una proprietà di una sola religione. Ha una qualità universale che permette alle persone di diverse tradizioni religiose di riconoscerla e rispettarla. Alcuni pensano che la vita in una tale comunità sia repressa, rigida e difficile, ma non è così. Una vita monastica è caratterizzata da una bellezza semplice e da una gioia inaspettata. I monaci trovano la felicità in cose che possono sembrare banali a coloro che perseguono i beni materiali e il successo. Osservare il cambio di stagione, la fioritura delle magnolie, la prima neve, porta una gioia e una gratitudine indescrivibili. Un semplice pasto fatto con ingredienti freschi delle montagne vicine è una fonte di grande soddisfazione. Perché i nostri fratelli monaci sono i nostri amici, insegnanti e familiari. Non ci sentiamo mai soli. Sunim si ferma molto anche sulla religione. Lui dice se Gesù, Buddha e Confucio fossero tutti vivi e riuniti nello stesso posto, discuterebbero su chi ha ragione o rispetterebbero e ammetterebbero l'uno e l'insegnamento dell'altro. Il conflitto religioso può spesso essere imputato non solo al fondatore delle religioni, ma ai loro seguaci fanatici. Chi conosce solo una religione non ne conosce nessuna, diceva Max Müller. Si può ammirare un leader spirituale, ma non idolatrarlo. La fede cieca nel leader può facilmente ridurti ad agire come un bambino, consegnando il tuo potere e chiedendo al leader di fare le cose per te. La medicina può essere prescritta, ma devi essere tu a prenderla. Questo era il libro Quando rallenti vedi il mondo di Heming Sunim, un libro che ci accompagna attraverso un percorso per raggiungere la pace e l'equilibrio interiore tra le stringenti esigenze della vita quotidiana. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!